buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 29 agosto si avvicina sempre di più la fine del mese ma lasciamo con un po' di rammarico questo caldo caldo mese estivo e poi vediamo un po' di addentrarci nella più umida temperatura del mese di settembre di cui proprio ieri e oggi stiamo avendo le prime avvisaglie ebbene oggi vediamo cosa si festeggia oggi si festeggia un evento particolare anche un grande santo ovvero vediamo la grafica è il martirio di san giovanni battista siamo ai tempi dell'imperatore tiberio il successore di augusto sotto cui era nato gesù in palestina regnava erode antipa che era il figlio di erode il grande a cui giovanni però rimproverava la convivenza con erodiade moglie di suo fratello erode sdegnato lo fece incarcerare il resto poi è noto salome figlia di erodiade ottenne l'esaudirsi di qualsiasi desiderio e chiese proprio la testa di san giovanni battista che in quel momento era nella prigione di maccheronte e fu appunto decapitato ebbene il martirio di san giovanni battista pensate si dice che la testa di san giovanni sia conservata nella moschea degli omadi a damasco un tempio ovviamente di carattere islamico ma che conserva questa reliquia molto molto preziosa per tutta la chiesa cristiana e cattolica e poi come non menzionare il bellissimo quadro del caravaggio uno degli ultimi dipinti nella sua vita dipinto mentre appunto si trovava nell'isola di malta e questa è una delle più belle immagini che possiamo avere di quel tragico episodio e allora a questo punto diamo un'occhiata alle previsioni del tempo Il tempo è cambiato lo vediamo già da ieri ovviamente poi vediamo anche gli effetti che il maltempo ha provocato nella giornata di ieri sui quotidiani di oggi bene tempo instabile ancora oggi su tutta la regione con precipitazioni moderate o forti anche specie nel pomeriggio le temperature sono in ulteriore calo vi ricordate i 30-33 gradi dell'altro ieri oggi siamo a 23 per quanto riguarda la massima e 18 per quanto riguarda la minima sulle coste i venti spireranno da sud e sud est mentre nell'entroterra da est sud est e il mare è mosso e mosso sono state delle mareggiate anche nella giornata di ieri Apriamo ora il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo subito una notizia di cronaca come del resto poi apre anche il resto del Carlino Li leggiamo insieme queste due notizie sul Corriere rapinano un cameriere al Lido accusati due diciannovenni la vittima minacciata le due di notte nel parcheggio le sottraggono 25 euro bene per 25 euro questi ora sono di fronte ad una situazione che rovinerà la loro esistenza Obbligo giornaliero di firma per due diciannovenni entrambi residenti in Valcesano sospettati di avere rapinato un loro coetaneo fanese per l'aver terrorizzato tirando fuori il coltello dalle loro tasche Abbiamo un coltello avrebbero detto alla vittima secondo l'esito delle indagini svolte dai carabinieri dai carabinieri della compagnia di Fano agli ordini del capitano Maximiliano Papale ebbene sono stati appunto portati in caserma l'episodio risale nella notte fonda del 13 agosto scorso è avvenuto al Lido di Fano nei confronti dei due diciannovenni abbiamo detto è stato proposto il foglio di via obbligatorio che impedirebbe a entrambi di tornare a Fano per i prossimi tre anni in corso inoltre sono degli accertamenti su un banco che uno di loro avrebbe tirato fuori per poter passare la notte poi in un albergo ma quel banco non funzionava e quindi non hanno potuto usufruire della Camera e forse si sospetta anche quel che il banco fosse rubato comunque a questo proposito le indagini sono in corso e vediamo come il resto del Carlino evidenzia la notizia anche questa in apertura coltello in faccia dopo il turno di lavoro cameriere aggredito da due diciannovenni è successo nella notte del 13 agosto in zona Lido i responsabili sono stati già identificati dai carabinieri di Fano avevano minacciato il coetaneo per un portamonete con dentro solo 25 euro e poi il trafiletto per quanto riguarda il Bancomat voleva pernotare in un hotel della zona ma il Bancomat è stato rifiutato rubato anche quello ebbene come abbiamo detto le indagini sono in corso vediamo ora le altre notizie sul Corriere a Torrette il Comune realizzi i parcheggi questa volta lo richiede anche il Partito Democratico locale dopo che per tante volte i residenti hanno evidenziato questo loro bisogno a Torrette i parcheggi sono insufficienti le aree private non vengono più messe a disposizione è veramente il turismo langue perché poi quelli che vengono dall'entroterra quelli che vengono dalle altre regioni non sanno veramente dove mettere la macchina occorre individuare nuovi parcheggi a monte della statale adriatica ovvero verso l'hotel di Torrette e a tal proposito si chiede all'amministrazione comunale quella di Fano di prendere in affitto alcuni terreni per esempio come quelli situati in via De Chirico la soluzione caldeggiata dal circolo del Partito Democratico sarebbe dunque di trovare un accordo con i proprietari privati delle aree da destinare a parcheggio estivo e sappiamo che al momento almeno il Partito Democratico è in maggioranza nel comune di Fano e quindi questa istanza che proviene appunto dalla sezione di Torrette potrebbe e dovrebbe essere ascoltata il coro malatestiano ricorda Luca Rulli giovedì a San Paterniano l'addio all'operaio tenore il funerale di Luca Rulli che sappiamo che è deceduto in seguito ad un incidente che si è verificato nella statale adriatica nord sarà celebrato dopodomani alle 16.30 nella Basilica di San Paterniano a Fano in piazza San Sovino l'esame autoptico è invece programmato nel primo pomeriggio di oggi subito dopo a mezzogiorno nell'obitorio dell'ospedale Santa Croce si vuole appunto accertare come è morto questo indimenticato tenore questo indimenticato cantante per poi risalire a tutte le cause che hanno determinato l'incidente e ovviamente stabilire le rispettive responsabilità ed ora veniamo al secondo articolo di apertura del Corriere Adriatico si parla dei cani si parla anche dell'abbandono dei cani ma anche del rilascio dei cani per diverse esigenze nelle canile della Melampo nel canile dell'amministrazione comunale si parte dalla vicenda di Joy guardate questo bellissimo cagnolino Joy ha trovato una nuova famiglia pronta ad accoglierlo ed è uno degli animali che è stato riconsegnato al canile municipale dalla famiglia che lo aveva adottato Joy è uno dei sette cani che nei soli primi otto mesi del 2023 sono stati in materia di rinuncia di proprietà da parte dei loro proprietari può apparire un numero irrilevante solo sette in otto mesi ma in realtà se vediamo come in tutto il 2022 i cani sono stati otto e oggi in agosto solo sette ebbene vediamo che poi il numero potrebbe aumentare questo trend preoccupa preoccupa gli animalisti preoccupa l'amministrazione comunale e preoccupa anche le persone che hanno una sensibilità spiccata verso gli animali perché poi abbandonarli nel senso che perché ovviamente se vengono consegnati al canile non vengono abbandonati ma i cani sentono poi della mancanza dell'affetto che avevano da parte dei loro vecchi proprietari dietro la rinuncia le cause più diverse dal mutato quadro familiare come per la nascita di un figlio o peggio per una separazione oppure una sopraggiunta emergenza ebbene ad un trasferimento dall'impossibilità di dare seguito alla convivenza con l'animale sono diverse veramente le cause che possono indurre una famiglia a rinunciare al proprio cane potrebbero insorgere difficoltà economiche potrebbe essere una malattia oppure la malattia stessa del proprietario oppure la malattia stessa del cane insomma veramente fa piangere il cuore quando un animale a cui si è legati viene abbandonato scusate se uso ancora questo termine viene relegato ad altre persone che se ne prendono cura perché il cane subisce ugualmente uno stress questo ovviamente senza ledere minimamente l'impegno dei volontari della Milampo che sono veramente degli eroi che perseguono un fine encomiabile per la sopravvivenza e la sensibilità che hanno nei confronti dei cani passiamo ad altro argomento e vediamo che come nel Candigliano si sia verificata una moria di pesci Carpe morte nel Candigliano un torrente che percorre percorre il terreno la zona del Prea Penninico verso Urbania che poi si getta anche sul Metauro Carpe morte nel Candigliano anche senza un'emergenza la segnalazione del gruppo acqua di Urbania quest'anno non c'è l'allarme idrico Carpe morte sul fiume commenta l'ingegnere Federico Baldetti che fa parte del gruppo acqua di Urbania le foto che ha scattato sabato scorso dal ponte in località San Donato tre chilometri a Monte di Piobico hanno veramente documentato e lo vediamo qui in questa fotografia la moria dei pesci non solo la fauna itica viene trattata peggio di una cosa senza vita ma bisogna ricordare a tutti che questo è il fiume sul quale si vorrebbe costruire una grande diga e quindi è un fiume quello del Candigliano un piccolo fiume che però ha una grande importanza e pensate il paesaggio che questo fiume ha scavato con le gole che ha veramente così inciso per poi confluire nel fiume più grande 20 incontri per il settembre pedagogico eventi per insegnanti, educatori e famiglie con il comune di Fano un'iniziativa che si ripete ormai da sette anni in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico un inizio che interessa non soltanto gli studenti ma interessa anche gli insegnanti i quali hanno l'opportunità di frequentare 20 incontri di adeguamento di perfezionamento del loro metodo didattico sono gli incontri per quanto riguarda l'aggiornamento professionale sono stati presentati ieri alla Mediateca Montanari dall'assessore alle biblioteche Samuele Mascarin e dalla funzionaria dalla responsabile diciamo così del sistema bibliotecario di Fano Patrignani ebbene sono 20 dicevo gli incontri che sono stati organizzati su temi alquanto diversi tra integrazione ambiente educazione sono incontri che si rivolgono agli insegnanti ma ce ne sono anche alcuni che riguardano un po' tutti quindi sono aperti a tutto il pubblico gli insegnanti interessati sono quelli delle scuole primarie cioè le scuole elementari e poi anche delle scuole medie e poi c'è anche una grande collaborazione con diverse associazioni cittadine il Corriere Adriati con le elenca abbiamo il Cremi abbiamo il Museo archeologico la Pinacoteca del Palazzo Malatestiano l'Associazione Genitare per Figli per l'Inclusione l'Associazione Albanese Il Iaranet Casa Archilei l'Istituto di Storia Contemporanea della provincia di Pesaro Urbino il Movimento della Cooperazione Educativa il Movimento Federalista Europeo Pesaro Fano Provincia e Scuola di Italiano di Mondavio vedete come questa iniziativa ha coinvolto varie realtà del territorio a Cantiano a Cantiano si parla di sanità e c'è anche una proposta di fare riferimento alla sanità umbra sappiamo che Cantiano è al confine tra la Regione Marche e la Regione Umbra ora Cantiano è più vicino a Gubbio che magari a Pesaro e a Fano e quindi si parla appunto di poter usufruire delle strutture umbre emergenza ora Cantiano si affida alla sanità umbra il Consigliere Regionali propone l'accordo già stipulato per Appecchio ma questo intervento del Consigliere Giacomo Rossi ha sollevato un po' le rimostranze della segretaria provinciale del Partito Democratico Rosetta Fulvi dicendo che Rossi sia propria di una proposta già fatta dal Partito Democratico bene queste sono qui squiglie di carattere politico l'importante è che appunto i cittadini di Cantiano possono usufruire di un'assistenza sanitaria adeguata alle loro esigenze giriamo ancora la pagina vediamo Senigallia dove si parla del prossimo anno scolastico anche in questa pagina ma in questo senso ci sono dei lavori da eseguire in una scuola e gli studenti all'inizio dell'anno scolastico dovranno usufruire di un'altra struttura e sono gli alunni della Cesanella che sono pronti con le valigie per essere trasferiti in un edificio provvisorio ne parla l'assessore Pizzi Riccardo Pizzi assessore alla pubblica istruzione di Senigallia lavori nella primaria e nella materna restyling del plesso di Montignano nel 2024 sono 3.654 gli allunni delle scuole comunali che dal prossimo 13 settembre torneranno sui banchi questo è il dato analizzato ieri mattina dai dirigenti scolastici che si sono riuniti insieme all'assessore Pizzi per organizzarsi per il prossimo anno scolastico dati che sono ancora provvisori in corso di aggiornamento ma che potrebbero subire qualche lieve modifica nei prossimi giorni e c'è appunto una organizzazione da mettere a punto e poi abbiamo addirittura due pagine dedicate dal Corriere Adriatico a quel tremendo fatto di cronaca che si è verificato ieri a Sirolo Acquaroli scusate non è questo ecco quello qua che è accaduto a Sirolo un colpo al cuore poi a Pesca intitola il Corriere eccolo qua il titolo su due pagine abbiamo anche le foto drammatiche di quanto è accaduto per un per un fatto stradale una macchina che si ferma all'entrata di una rotatoria tituba è un po' incerta la guidatrice ebbene la macchina che la seguiva si spazientisce ovvero gli occupanti ovviamente si spazientiscono uno scende comincia a litigare con il marito della signora che era al volante e poi reagisce sparandogli contro un arpione sparato da una fiocina e qui il dramma lui poi scappa e viene poi raggiunto più tardi mentre se ne stava andando tranquillamente a Pesca viene raggiunto appunto dalle forze dell'ordine un colpo al cuore poi a Pesca Fatà Mellul in mare con la fiocina usata per uccidere Clyde il cittadino italiano d'Aprile aveva piccoli precedenti per droga ovviamente si parla dell'assassino l'accusa omicidio aggravato da futili motivi è in carcere e ora rischia l'ergastolo l'accusa è veramente pesante un'ipotesi di reato che potrebbe se confermata in giudizio potrebbe pagare con l'ergastolo nel decreto di fermo disposto dal PM su cui dovrà poi esprimersi il GIP dopo l'interrogatorio in carcere previsto per domani si evidenziano i gravi indizi di colpevolezza suffragati che non c'è ombra di dubbio quasi suffragati dai tanti testimoni che hanno assistito al fatto e qui vediamo i volti dei protagonisti di questa vicenda qui l'assassino e qui la vittima la vittima aveva solo 23 anni uccisa per ragioni veramente incomprensibili futili una sosta un pochino prolungata davanti all'ingresso di una rotatoria una cosa veramente inconcepibile e vediamo altre pagine dedicate a questa cosa Clyde viveva per gli altri sarebbe la vittima mi è morto tra le braccia Xuliano Briti 18 anni ha visto il killer uccidere il fratello ha colpito a sangue freddo con la fiocina poi è fuggito ha dichiarato e qui vediamo appunto il fratello di 18 anni bastano 50 euro e 16 anni per avere l'arma mortale per poter avere una fiocina che è un'arma mortale bastano 50 euro costa pochissimo è un'età superiore ai 16 anni però c'è il comandante di Cecco della guardia costiera che dice che quest'arma va caricata soltanto in zona di pesca quindi non può essere portata carica in auto mentre appunto si raggiunge il litorale tour operator in allarme la capitale del 2024 è fuori dai radar degli stranieri manca la promozione secondo alcuni operatori di Pesaro capitale nazionale della cultura del 2024 gli stranieri soprattutto sono poco alla conoscenza di questo grande evento che dovrebbe essere organizzato il prossimo anno e quindi si incentiva l'amministrazione comunale a insistere sulla promozione promozione che dovrebbe anche essere avvalorata dal restauro di grandi edifici storici pesaresi soprattutto quelli che ospitano gli spettacoli il teatro Rossini per esempio che dovrebbe essere ripristinato aperto al pubblico nel prossimo autunno invece c'è ancora un po' di incertezza per quanto riguarda l'auditorium scavolini di via dei partigiani e un altro elemento essenziale è quello del restauro dei lavori che si stanno facendo nell'ex intendenza di finanza in pieno centro storico a gennaio 2024 potrebbe già essere visitabile anche una porzione della loggia del Genga al piano terra di Palazzo Ducale sede della prefettura mentre sulla parte restante il restauro verrà completato entro il prossimo anno quando appunto la capitale della cultura avrà già attratto i possibili clienti i possibili consumatori avviati i lavori alla Pesaro Studi traslochi di alunni da 5 quartieri anche Pesaro si prepara ad affrontare nel modo più razionale possibile il prossimo anno scolastico mentre in quest'altra pagina la numero 13 si parla del maltempo che ha imperversato nel nostro territorio nella giornata di ieri soprattutto a causa delle forti raffiche di vento torna l'erosione dopo le mareggiate per i vigili del fuoco oltre 60 chiamate da tutta la provincia ma le temperature restano alte in effetti si aspettava veramente il diluvio nella giornata di ieri un temporale forte non è avvenuto poche gocce d'acqua ma in realtà quello che ha così creato dei danni è stato il forte vento il quale ha rotto rami tronchi li ha riversati sulle strade ha così creato problemi alla circolazione per cui sono intervenuti anche la polizia locale sia di Fano che di Pesaro ma soprattutto i vigili del fuoco per liberare la strada da questi improvvisi ostacoli ma il mare ha causato danni anche alle concessioni il mare il vento e il mare ha causato danni anche alle concessioni balneari perché l'erosione ha sottratto metri cubi metri cubi di spiaggia e quindi un problema questo che dovrà essere risolto con una maggior difesa del litorale vediamo un altro articolo che riguarda il Corriere Adriatico per quanto riguarda Urbino dalla bioetica alla sostenibilità affrontiamo i temi sensibili al Via l'Ateneo la Summer School organizzata con l'Università di Torino una iniziativa di carattere estivo che potrebbe interessare molti molti alunni molti studenti e allora torniamo al resto del Carlino abbiamo già visto l'articolo di apertura per quanto riguarda la cronaca vediamo la seconda apertura si parla della gestione dei rifiuti in questo caso ne parla il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli il quale dice non vogliamo che Monteschiantelli si trasformi in una Riceci due a Riceci la nuova discarica è stata al momento fermata è stata così ostacolata speriamo che però tutti i problemi che ha lasciato aperto Riceci non si riversino sulla discarica di Monteschiantello se no alziamo le barricate il sindaco Sorcinelli contro la proposta di una collaborazione tra Aset e Marche Multiservizi per gestire la discarica una proposta che è stata evidenziata è stata lanciata dalla ribalta della cronaca dai tre ex amministratori Francesco Baldarelli Cesare Carnaroli e Tiziano Busca comunque una proposta che ha avuto il merito di riproporre questo dibattito perché al momento si stava ponendo una specie di coperchio a un problema che invece deve essere risolto speriamo entro la fine di questa tornata amministrativa bella l'iniziativa terre roveresche per salvare un castagno secolare una terapia d'urto lo salverà è un esemplare di 200 anni di vita che si trova nel parco di Orciano che sarà sottoposto a una speciale cura l'ha ideata il fitoiatra Allegretti ha detto userò lo stesso metodo applicato sul leccio di una villa di Susanna Agnelli e guardate questo castagno c'è questa signora che allarga le braccia insieme ad altre persone per evidenziare la circonferenza del tronco del albero veramente un albero secolare che merita di essere salvato con tutte le possibilità esistenti Carabinieri valser di comandanti grazie dei sindaci Terre Roveresche e Mondolfo Antonio Meduri ha preso servizio nella caserma di San Costanzo al suo posto Domenico Pellegrino questo è per quanto riguarda l'avvicendamento al comando dei Carabinieri e terminiamo la nostra rassegna stampa a Urbino Urbino capitale della bioetica per sette giorni esperti a confronto sui temi più scottanti e meno popolari stasera al dibattito su eutanasia e suicidio assistito anche Beppino Englaro che è il papà di quella giovane che purtroppo è appunto deceduta in seguito alla malattia un decesso volontario in seguito alla malattia che l'ha appunto pervasa e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani per una nuova rassegna stampa grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto